Forse vi sorprenderà sapere che i diversi borghi sparpagliati nella piana del torrente a Roscia e che sono riuniti nel comune di Ranzo sono in realtà luoghi di confine. Non solo perché oggi Ranzo è al limite estremo della provincia di Imperia sul lato verso Albenga, ma perché fin dall'Alto Medioevo questo territorio fu una zona cuscinetto tra le signorie feudali dominanti l'Alta Valle e i possedimenti della Repubblica di Genova. Una posizione che consentì però spesso di essere al centro di vie commerciali e ancora oggi gli abitati sono una sorta di cerniera tra la montagna ed il mare, offrendo un'ospitalità particolarmente ricercata e spesso di alto livello a chi rifugge il caos costiero, pur rimanendo a pochi tiri di sasso dalle spiagge. È ancora la posizione, non disgiunta dall'orografia, a fare di Ranzo un'ideale cantina a cielo aperto, perché qui si produce uno dei principi del vino ligure, il pigato. Senza dimenticare che, per chi ama i rossi, questa è ancora zona di vitigni che producono l'ormeasco o il rossese. Ma ascoltate cosa ne dice un abitante. Ranzo ha una peculiarità tutta sua, che è quella del pigato. Il pigato è questo vino bianco che qui cresce, è quest'uva che cresce respirando da un lato l'aria delle Alpi, dall'altro l'aria del mare. È un po' l'espressione di questo angolo di Liguria in cui le Alpi si tuffano in mare. Io il pigato lo penso mangiando pesce. Ecco, lo penso mangiando... prima parlavamo dei friscioi di baccalà. In gotto di pigato con i friscioi di baccalà è qualcosa di superlativo. Così come sono superlative le pesche, coltivazione molto tipica di questo tratto di valle a roscia, accompagnate col pigato. Allora sì, i friscioi di baccalà col pigato, una macedonia di pesche col pigato, ma anche una crostata con la marmellata di pesche accompagnata da un ottimo bicchiere di pigato, sono qualcosa che non solo allieta il palato, ma esprime lo spirito di questa terra. Oltre ai vigneti e alle altre coltivazioni, qui troverete un autentico gioiello dell'arte cinquecentesca, un po' appartato il complesso di San Pantaleo. Magari vi incuriosirà questo antico santo che ebbe tuttavia, nel lontano passato, molta fortuna, dando persino il nome ad una maschera della commedia veneziana. Martirizzato con atroci torture, finì con le mani inchiodate sulla testa, che subito dopo gli fu mozzata. San Pantaleo però ci offre il destro per almeno accennare ad una intera famiglia di artisti nati in questa terra, i Guido d'Aranzo e in particolare il più famoso di essi, Pietro, le cui opere sono sparse un po' dovunque da queste parti. Approfondire almeno un po' l'opera di questi artisti vi consentirà dunque di arricchire una vacanza da non dimenticare.